Oggi la giornata è bella, ora, credo che il loro lavoro sia anche altro, ma mettiamo che sia solo quello. Oggi la giornata è bella, quando c'è... E' così facile. Perché è come qui, e si congela, quindi riesce al posto. E' così facile, perché non c'è nulla? C'è nulla? C'è nulla? Ah, non c'è nulla? C'è nulla? C'è nulla? Non c'è nulla? Non c'è nulla? Capito. Eh. Tu c'hai energia, tutto fuori, un cammino, sai? C'è nulla? C'è nulla? C'è nulla? C'è nulla? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.